amici ma soprattutto nemici piangoneri buongiorno ragazzi buongiorno 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 mi raccomando andiamo al lavoro perché il lavoro fa male no lo dicono in tanti è bello perché è meglio fare l'amore come il mio coniglio che si alza la peppa pega comunque quando le ciance ragazzi sembra che la Juvenus sia interessata da quello che si legge da quello che si intravede da qualche posto qua e là a De Maria giocatore del Paris Saint Germain argentino talentuoso talentuoso De Maria per carità ma naturalmente ha la sua bella età quindi lì si parla addirittura di un contratto di un anno la Juvenus voglia fare un contratto di un anno per questo per questo calciatore il talento c'è non è che il talento non c'è però il famoso progetto Gevo giovani con l'acquisito De Maria mi sa che un pochino va a farsi bene poi c'è Bernardeschi Bernardeschi e questo sole è impressionante Bernardeschi la Juvenus sembra che non abbia assolutamente intenzione di rinnovare quindi se non sbaglio Bernardeschi anche lui come di bala potrebbe andare a parametro a parametro zero via potrebbe essere ceduto a parametro zero e non lo so non lo so Bernardeschi anche lui a parametro non mi sembrano proprio delle grandi manovre di mercato questo lasciarselo andare a parametro zero perché non sarà un fulmine di guerra non sarà un campionissimo però quando tu lasci un ragazzo così a parametro zero un pochino un pochino diciamo che la cosa mi fa pensare mi fa pensare e poi Cecchiellini che finalmente finalmente ha appeso le scarpe il chiodo anzi no le scarpe il chiodo no perché poi lui potrebbe ancora continuare non lo so comunque diciamo che con la Juvenus ha praticamente detto la parola fine quindi tutto il popolo di Juvenus naturalmente ringrazia Giorgio Chiellini per quello che ha fatto per quello che ha vinto per il suo carisma per il suo entusiasmo per la sua bravura per il suo coraggio per le sue per i suoi per il per le sue fasce alla testa per i suoi punti che ha ricevuto durante la carriera juventina e Chiellini anche lui ci lascia tutto qui ragazzi questo è quello il rumor che per ora ci sono per quanto riguarda il il mercato il mercato fate voi commentate voi e mi raccomando sempre scriviamoci al canale ragazzi che avete rallentato avete rallentato furbini furbini avete rallentato non è possibile vengono 47 giorni furbini ti voglio bene ma se ci ingazzate fino alla fine forse mi faccio una bella colazione